Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti in un nuovo video in verde oggi Esatto Oggi ragazzi vi sblocco un ricordo in questo momento Un anno fa Succedeva questo 699 699 699 499 499 499 499 499 una 2080 ti ha ragazzi in Italia sono 550 599 Dammi un 5 po' di roto Bene Mamma mia come è grossa E invece oggi ci ritroviamo Con i maroni che toccano E rasentano il terreno Ma non per forza Vogliamo dopo un anno ragazzi E soprattutto vogliamo parlarne con voi Perché questa è la nostra opinione Ma vorremmo sapere voi cosa ne pensate E a parte commenti Tipo No vabbè Era tutta una merda così Esatto Che non serviva a niente Però seriamente Capire se l'obiettivo A un anno di distanza È stato raggiunto Perché di fatto Comunque Che le schede video Così come le Playstation Perché anche Playstation 5 Non ce le hanno tutti E i prezzi sono elevati Ma chiamarla fallimento No direi proprio di no È impossibile Perché ha venuto 10 milioni È la console Più venduta di tutte È una cosa diversa ragazzi Che fallimento da Non ce l'hanno tutti I prezzi sono alti A dichiarare un fallimento di qualcosa Sono due cose diverse Vogliamo in questo video Cercare di capire se Nvidia Con le RTX 3000 Quelle che sono uscite Ha fallito Nel suo intento Oppure Ha centrato E Le mancanze di schede I prezzi più alti Sono solo una conseguenza Dell'avere centrato l'obiettivo Con obiettivo Lato nostro Noi ci siamo fatti Ovviamente delle idee nostre Per quello stiamo dicendo Che vorremmo anche Avere un dialogo con voi Qua sotto nei commenti Per capire Quali sono state le idee Che vi siete fatti voi Su questa generazione 3000 Per noi l'obiettivo di Nvidia Era abbastanza semplice Nel senso che Una volta introdotta Negli anni scorsi 2019-2018 Quello che è stato Le prime RTX La prima serie Che sbloccava Questa nuova tecnologia Per il gaming Su PC Voleva concretizzare Un po' Questo suo Non so come dire Si era ritagliata Una sua tecnologia Quasi esclusiva Quasi proprietaria E voleva renderla Accessibile Un po' più a tutti Rispetto a quella Che è stata La primissima generazione Di RTX Quindi far accedere Tutti al Ray Tracing Far accedere tutti Al DLSS E appunto Oltre ad aumentare La base d'utenza Rendere queste tecnologie Più mainstream Oltretutto a differenza Delle gem precedenti Dove la TI Quindi l'80 TI Di turno Si prendeva La maggior parte Dell'aumento generazionale Di potenza Perché ogni Ogni generazione Un suo aumento prestazionale Da top di gamma A top di gamma Poi come viene Poi come viene ridistribuito Nei vari I vari tagli Dipende dalla gen Questa gen È stata Una gen Dove abbiamo avuto La peggior top Di gamma assoluto Che è la 90 Poco 10-15% Più potente Dell'80 Abbiamo avuto Una gen Dove l'80 È stata Addirittura Quasi il 30% Più potente Del modello Top Della scorsa generazione Arrivando a Un 45-50% In totale Sulla gen precedente Che è molto È veramente Tanto In due anni Di miglioramento È un'ottima cosa Non ci si può lamentare Del salto prestazionale Poi come è successo I prezzi Ci hanno Infatti L'urlo Non è stato Per le prestazioni È stato Per i prezzi È stato Per entrambe le cose Per il rapporto Più che altro Per prestazioni I prezzi Arrivavamo Dalla 2080 Ti Pagata Io 1400-1500 euro Troveramme una scheda Che andava Al 30% In più 25% In più A meno Della metà Di fatto Era una roba Clamorosa Era fuori di testa Per quello Parliamo di renderlo Più accessibile Perché per quella Che è stata la premessa Sembrava che questa generazione Dovesse andare Non solo Ad aumentare le prestazioni Di così tanto Su tutta la linea Ma anche Ad abbassare i prezzi Di brutto Perché Con quella che è stata La prima generazione Di RTX I prezzi si erano alzati Rispetto alla generazione passata Si pagavano di più Le RTX In generale Quindi Avere un abbassamento Di prezzi Era anche Quello parte Dell'obiettivo Di Nvidia Così come Far uscire una fascia bassa Cospicua Con appunto Come diceva lui Le RTX 2000 In usato Che diventavano Molto più accessibili Esatto E avevi un retressing Perché di fatto Le 2000 Sono la cosa più potente Dopo le 3000 Retressing sul mercato Perché ci sono Le 3000 Che sono le più potenti Ovviamente DLSS attivato Poi le 2000 Con il DLSS attivato Sono ancora più potenti DMD Che l'FSR Non l'abbiamo ancora visto Lo vedremo da Fini anno In qualche gioco Però per adesso Ancora la situazione così Speriamo Di laghi Ma ancora non lo vediamo Per adesso ancora Una pozzangra Capito Di laghi Di laghi E poi abbiamo Abbiamo le console Come potenza Quindi c'è di fatto Con queste tecnologie DLSS e RTX NVIDIA Aveva veramente Un La possibilità Di far tutto Esatto Le RTX 3000 Sono state un enorme successo Perché i dati Sono oggettivi Nel senso che Le vendite sono oggettive Comprata Da un botto di persone Anche le persone Dalle persone Che ci seguono Ai dati Che abbiamo visto Sì di Steam Ma anche Ma non parliamo Al passato Parliamo al presente Perché i dati di Steam Si stanno aggiornando Mese per mese E la quantità Di RTX Di nuova generazione In aumento È costante Quindi c'è nel senso Parliamo di Lato prodotto Adesso parliamo Poi anche del prezzo Lato prodotto Parliamo di un successo Di fatto Perché stiamo parlando Di prodotti Che il successo Ce l'hanno avuto E ce lo avranno ancora Altrimenti non sarà In questa situazione Perché se un prodotto Non se lo caga nessuno Non è al doppio Delle MSRP Per cui è proprio Non puoi non chiamarlo successo Però di fatto A differenza di Quella che può essere Una PS5 E Xbox Series X Che di fatto È solo un mezzo Per guadagnare Non è una console Non è nulla Un mezzo per venderti altro Esatto Di fatto L'RTX invece Hanno fallito Secondo noi Il loro obiettivo Perché ne ho parlato Anche con NVIDIA Gliel'avevo detto Il mio punto di vista Questi prodotti Erano nati Per essere A portata di tutti Per far esplodere Il retracing E il DLSS Cosa che è riuscita Perché l'hanno venduto Una fraccata Sì sì per carità Però Cioè veramente Non è Non si può definire Riuscito il compito No perché di fatto Tutti quelli che Nonostante la pandemia Abbia fatto Diciamo aprire le tasche Un po' di più Alla gente Per tutta una serie di motivi Che abbiamo discusso Mille e mila volte Però di fatto Quelli che non possono Spendere più di un tot Per una scheda video Di fatto non ce l'hanno Ma anche chi come me Può spendere tanto Per una scheda video L'ha avuta Adesso Dopo E io ho fatto un mese A nerdarci Humankind Adesso E a nerdarci Su altri giochi Regà non si può dire niente Cioè vabbè Che la conoscevo Non è che la 3090 L'avevo mai vista Abbiamo provato un botto La Founders Che ci ha inviato Nvidia Però di fatto Questa era la mia Mi sono nerdato Sul mio pc Come un pazzo Ed è stato Molto bene Cioè è una scheda Che cazzo vi vuoi dire Se poi la giochi come me Su un VQHD Quindi neanche su un 4K Cioè veramente Siamo a livelli Però di fatto L'hai avuta Ad agosto 2021 L'ho avuta Ad agosto 2021 E non di certo MSRP Anche se non l'ho pagata 2000 euro Anche se Molto c'è chi l'ho L'ho pagata di meno Perché era settembre Porca te l'era settembre Vabbè è andato 10 mesi Quasi un anno E di fatto Molte persone Sono come voi Io vado Se social network Invidia Vedo solo insulti Anche se Invidia vorrebbe Vendervi Le spiagge Una azienda Dice no Io non ti voglio Vendere il prodotto Queste cause Che hanno Coinvolto Tutto il settore Perché ragazzi Noi abbiamo Ripeto ancora Per la nostra casa Abbiamo scoperto Che i cappotti Delle case Quelli che servono A proteggere Sono più rari Delle schede video In questo momento Però sulle schede video Non si può E su Nvidia Non si può Secondo me dire Che le RTX Hanno raggiunto L'obiettivo Ce le ricorderemo Storicamente Perché ci ricorderemo La pandemia Storicamente Ci ricorderemo la pandemia Ma avremo sempre Questo gusto Dulce amaro Pensando All'RTX 3000 Che poi hanno ancora un anno Non è che adesso Le stiamo dando No infatti Però adesso Inizieranno già I rumor Sulle 4000 Sono già partiti E anche quelli Su RDMA3 Quindi RDMA3 ovviamente Dovrebbero uscire Delle super Dentro quest'anno Che però Dovrebbe essere Un aggiornamento Di processo produttivo Che oltretutto Questa situazione Di prezzi folli Disponibilità bassa Eccetera eccetera Hanno anche un po' Forse fatto invertire La strategia di Nvidia Perché di fatto Non abbiamo visto Né una scheda Di fascia bassa Perché probabilmente In questa situazione Non aveva particolare senso Fare una 3050 Una 3050 Ti Né qualcosa Che andasse sotto Una certa soglia Di prezzo E poi Un'azienda Nvidia Se coglie Come è stato Colmining Delle opportunità Di guadagno Feroce E anche in dovere Di sfruttarle Cioè ripeto Non è nostra amica Non è Sia Nvidia Che Made Intel Non sono amici Non sono cose Non è tradimento Perché Se vedete tradimento È perché ci mettete emozione Se ci mettete emozione Su un'azienda Vuol dire che state sbagliando È un'azienda E fa quello che deve fare Perché ha colto Poi ovvio Noi consumatori Non ci piace È ovvio Ma se anche altre aziende Fossero al loro posto Farebbero lo stesso Fossero al posto di Nvidia Farebbero lo stesso Il caso più emblematico È Microsoft Che dove In Xbox Con Playstation Sembra la buona Samaritana Che Vendes Regala a tutti Perché è sotto Che quindi È quella debole Nella lotta A Playstation E quindi deve dare Qualcosa in più In Windows Si vede quello che ha fatto Monopolista Totale Distrutto tutto il resto Ha fatto terra bruciata Attorno Quindi Ed è la stessa azienda Ragazzi È la stessa azienda Semplicemente Il comportamento cambia In base al market Che tu hai Quindi non c'è Al Medi buono In media cattiva Ma se Medi Avesse l'80% Farebbe uguale Esattamente le stesse cose Che fa il video O peggio Non lo sappiamo Oltretutto In questo periodo In questo agosto Perché adesso Stiamo registrando È ancora agosto Probabilmente il video Uscirà Già a settembre Il primo settembre E un anno dopo Esatto Quindi Esattamente Un anno dopo Comunque Fatto sta Che anche ad agosto La situazione Non è andata migliorando Ne abbiamo parlato Anche nell'ultimo video Su come farsi un computer Anche questo agosto Al di là di quelle Che erano Potevano essere Le aspettative I prezzi stanno Continuando a risalire Stanno riprendendo a salire Più che continuano a risalire Infatti noi Anche noi adesso A livello di video Che stiamo studiando E scrivendo Stiamo facendo dei video E vogliamo fare dei video Che coinvolgano anche tanto Il resto delle parti del PC Perché vediamo Cosa succederà Con questo 3000 Super Con la nuova RDNA 2 Sul processo di produttiva NR6 Che magari si è liberato Spazio lì O c'è nuovo spazio Da parte di SMC Quindi potrebbe aumentare L'offerta Non lo so Però di fatto Ha un po' stufato Tutti questa situazione E non si può Non si può dire Che secondo noi RTX Ha raggiunto L'obiettivo PlayStation sì Perché il suo obiettivo È piazzare console Ma Nvidia È diverso Nvidia doveva conquistare Il mercato Doveva far cambiare idea Agli sviluppatori Di far includere Raytracing In modo globale E totale All'interno dei videogiochi Perché l'adozione Era veramente A livello Delle 1060 Di anni fa Quello era l'obiettivo Con quest'RTX Obiettivo che sono noi Sfondare il mercato Sotto tutti i punti di vista Che ci sarebbe riuscita Perché la domanda I siti che crashano L'abbiamo visto tutti Se i prezzi E le schede ci fossero stati La cosa è riuscita Però di fatto Non è così Ma infatti Anche perché appunto La premessa era esagerata Cioè prima che uscisse Tutto il discorso Dello shortage C'era un hype Tremendo Ragazzi Anzi noi abbiamo fatto L'unboxing Parlare esatto Delle RTX 3080 Eravamo ottavi in tendenze Cioè Su una scheda video In un paese Vecchio come l'Italia Su una scheda video Ottavi in tendenze In Italia C'era Una scheda video E una roba Proprio fuori dal mondo C'era un hype Che veramente In quel periodo C'era gente Che mi fermava per strada E tremava Perché non vedeva l'ora Di comprare la scheda video Io vi giuro Una roba del genere Non l'ho mai vista Infatti Adesso che stiamo entrando In questo periodo Quasi nostalgia Fino al 15-20 Perché poi quando sono uscite La situazione è cambiata Però in quel periodo lì Essere appassionati Di questa cosa È stato bellissimo Perché parlavamo E gioivamo tutti insieme Di quello che sarebbe uscito Poi non ci aspettavamo Il disastro Del successo Però di fatto È stato un momento Molto bello Perché eravamo Tutti ai pati a mille Anche i più Veramente Scettici Erano veramente Sì sì è vero Eravamo tutti presi bene In generale Tutta la community Ed è stato bello Anche per quello Proprio perché si trovava Un po' di consenso Da parte di tutti In generale Cosa che di solito Non succede Ma anche durante la recensione Della 3080 Noi siamo usciti al day one Ed è stato uno dei primi I nostri grossi lavori Con Nvidia Al day one È stato bellissimo Recensione di 50 minuti Ma anche da quelli Che sono di solito I più cagacazzo Di recensori O più Che trovano il pelo Nell'uomo Ovvio Le prestazioni in full HD Con tutti quei core Con overhead Non sono mai stato il massimo Quello si è capito Però anche un po' Con quelle successive Il vattaggio Non era il massimo Però tutti hanno detto Sto qua è un prodotto Della madonna A 699 700 euro Poi è la fine del mondo E poi c'è arrivata La sabbia Insomma raga Voglio sapere La vostra opinione Fatecelo sapere Se per voi PS5 è stato un successo E l'RTX No Se questo Cioè Se la pensate come noi Oppure se pensate Invece Se è stato un successo Lo stesso Se avete fatto Riflessioni diverse Appunto Da quelle che abbiamo fatto Noi in questo video E nei video scorsi In generale Fatecelo qua sotto Qua sotto Ovviamente Come al solito Noi vi ricordiamo Che i social Li trovate tutti Qua sotto in descrizione Insieme a link A cose strane Non lo so Fonti varie In generale Noi ci vediamo Alla prossima ragazzi